Martedì 27 marzo 2018 vi parlo dal ristorante La Loggia del Piazzale Michelangelo a Firenze dove si tiene quest'oggi il nostro consueto salotto settimanale, un salotto ridotto ad una sola presenza anziché le consuete quattro perché stasera abbiamo bisogno di parlare più a lungo con il regista di un film Alessandro Cecchini che vedete a mio fianco che è stato spesso negli ultimi anni nostro ospite perché il film uscì nel 2014, lo abbiamo seguito fino dall'anteprima nazionale al Cinema Teatro Alfieri di Firenze ma poi mi ricordo averlo seguito a Pistoia, a Montevarchi e in tante altre località della Toscana poi perlomeno per la nostra rubrica è stato un po' in stand by e ultimamente siamo stati contattati da Alessandro perché ci ha comunicato un'importante novità, cioè il film adesso è in distribuzione anche in DVD che presentiamo ai nostri telespedatori e del quale ci ha fatto omaggio Alessandro e la terremo preziosamente nella nostra redazione allora intanto il cammino di questo film è proseguito anche se noi non lo abbiamo più seguito per ovvi motivi perché insomma siamo stati a fianco vostro per un lungo periodo però intanto cogliamo l'occasione per ricordare ai telespedatori che non si rammentano quei servizi o che non hanno avuto l'opportunità di vederlo come nasce questo film, perché si chiama DEC, di cosa parla e magari mentre tu lo sintetizzi vorrei che la regia supportasse quello che stai dicendo con le immagini, alcune immagini del film che fra i protagonisti hanno ovvero anche nomi importanti ne dico uno fra tutti, quello di Alessandro Benvenuti il film nasce con l'intenzione di voler provare a fare qualcosa di diverso nell'ambito di quello che generalmente faccio nel teatro comico qui bisogna fare un inciso perché Alessandro Cecchini in arte Cecco insieme a Baracca ha costituito per tanti anni un duo comico Cecco e Baracca anche se è giovanissimo ma stiamo parlando di una ventina d'anni fa diversi annetti, diversi annetti fa avete iniziato a far ridere il pubblico ci siamo diciamo cimentati sul cabaret, il teatro comico questo film non ha niente di comico, anzi è un film abbastanza inquietante inquietante il titolo, inquietante questo disegno qua che poi inquietante alla fine è un termine di un qualcosa che non si sa bene di solito ci inquieta ciò che non conosciamo infatti è un film misterioso, questo lo possiamo dire esatto, che cosa è? è un qualcosa che innanzitutto la scrittura del film è nata insieme a mia sorella Katia Cecchini nel quale mentre successe un fatto particolare noi l'intenzione di voler provare a fare qualcosa di diverso c'era però ancora non era maturata cosa una notte mentre si dormiva a un certo punto cade un libro in terra andiamo a vedere il libro che è caduto in terra fu un libro, è un libro di Paracelso Paracelso è un medico che è esistito in Svizzera intorno al 1400 e fu un medico molto particolare perché lui in pratica riusciva a guarire, curava con delle, come posso dire, può sembrare in un modo un po' misterioso, strano però c'è una scienza dietro a tutto questo sullo studio anche di questo medico e anche tutto ciò che... al quale Firenze ha dedicato anche una strada che va da Piazza d'Avanti verso Via Taldea Alderò bellina questa, non la sapevo però molto bellina, hai visto? comunque fa bene perché comunque c'entra anche Firenze ci fa piacere che buona parte del film è girato anche a Firenze siccome tutto ciò che ruota nell'ambito di studio di questo medico ecco che ci è venuto in mente una storia di questo studio di questo antico medico diciamo lui andava non solamente a studiare l'aspetto fisico di un essere umano ma andava anche a una cosa un po' più interiore perché il principio nel quale si fonda un po' questo studio è anche quello di cercare di riunire la materia però anche con un principio un po' superiore anzi molto più superiore perché non siamo solamente un corpo fisico ma oltre ad essere anche energia abbiamo anche una parte spirituale l'idea era appunto di riuscire a raccontare una storia che tenesse presente questo aspetto qui e abbiamo lavorato una storia di fantasia perché appunto è un fantasy che parla proprio di questi argomenti ADEC proprio il termine stesso ora non posso svelare troppo però altrimenti alla prossima proiezione non ci sarà nessuno se esaurisci tutto abbiamo detto un film misterioso se il mistero viene svelato ovviamente poi rimane poco margine per venire a vedere lì esatto anzi cogliamo subito l'occasione per informare i telespettatori della data e del luogo dove si terrà la prima più imminente programmazione del film giovedì 12 aprile al cinema Castello di Firenze in via Reginaldo Giuliani 374 chiamato anche Cineteca Firenze perché è un luogo di culto per i cinefili fiorentine esatto abbiamo detto la data, l'orario ci sarà in distribuzione anche il DVD quindi ci verrà questa doppia opportunità vedere il film e poi portarsela a casa e rivederlo perché con contenuti extra con varie curiosità che ci sono che sono state fatte sulla copertina del DVD ci sono anche degli allori che nel frattempo il film ha portato a casa allora il film si è stato selezionato al Lugum Film Festival in Sudafrica poi al cinema fantastico di Torremolino in Spagna e poi ha conseguito il secondo posto al 12 Film Festival che è un festival online cioè è un festival che organizzano molto bellino tra l'altro in rete e si è giudicato diciamo sul secondo posto Alessandro tu hai utilizzato oltre a Alessandro Benvenuti che è la guest star del film anche molti professionisti da Valerio Ranfagni mattatore del teatro vernacolare fiorentino esatto si si puoi ricordare qualche altro nome certo mi sembra Lavinia Parissi esatto è la protagonista che interpreta proprio il personaggio io non le ricordo perché ora è qualche anno che ti abbiamo un po' perso di vista si si Lavinia Parissi che interpreta nel film Sofia Credi che sarebbe appunto la protagonista diciamo una ragazza che scopre di avere un dono un dono che gli permette si suol dire di veicolare ecco una conoscenza intima dell'uomo ti vorrei chiedere intanto abbiamo parlato della tua origine artistica nel teatro comico l'hai abbandonato o ancora lo coltivi parallelamente all'impegno registrico che è un impegno insomma importante no 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 si continua si continua anzi e dire la verità quello che imparo e tuttora sto imparando è bello anche trasmetterlo infatti stiamo stiamo costruendo abbiamo costruito un progetto che è dedicato a tutti che si chiama laboratorio di teatro comico ed è una non è proprio una scuola è un laboratorio dove cerchiamo cerco di trasmettere le basi o bene o male quello che imparo e che abbiamo imparato in una in una chiave che è destinata non solamente a chi vuol fare l'attore o l'attrice ma perché è dedicata proprio è per tutti cioè proprio perché la fonte principale del teatro è riuscire a ritornare i bambini dove hai deciso di trasmettere questo tuo sapere teatrale dove ha sede questa scuola di teatro sapere teatrale sa proprio sì no allora esperienza diciamo questa lunga esperienza di palcoscenza esatto che tuttora imparo comunque allora il corso attualmente si svolge tutti i mercoledì al teatro del borgo e tutti i martedì allo spazio sonoria che non sono da solo sono insieme a Fabio Cecchi un altro insegnante che in due siamo in due a fare questo percorso di laboratorio di teatro comico e creatività perché c'è un po' di tutto c'è un po' di tutto anche se ADEC ancora non ha esaurito il suo ciclo vitale ti chiediamo quali altri progetti hai appena sarai libero da questi impegni anche promozionali del film ce n'è diversi di cose che tiene da fare fate riuscire a organizzare tutto quanto lo stiamo preparando con la mia compagnia la compagnia teatrale La Divina Toscana un nuovo spettacolo che sarà pronto per l'autunno e sono due atti comici di Brunetto Salvini che salutiamo speriamo in questo momento ci stia vedendo e che apprezziamo molto e al quale vogliamo molto e si intitola peccato che sia originale dico soltanto che è ambientata nell'Eden dove c'è Adamo Eva Lucifero l'angelo e poi c'è Dio e succede appunto questa parabola della caduta e il cast è composto diciamo già chi interpreterà Dio perché sarà un ruolo abbastanza impegnativo allora Dio sarà interpretato da Emanuele Batelli una responsabilità è una bella responsabilità cioè un ruolo diciamo fulcro poi ci sarà Tiziana Caserta che interpreterà l'angelo poi ci sarà Fabio Cecchi che interpreterà la parte di Lucifero e inoltre curerà anche la regia dello spettacolo poi vabbè ci sono io che farò la parte di Adamo e Giovanna Nicotra la parte di Eva allora noi ci lasciamo con un doppio impegno da parte tua che prima della partenza dello spettacolo verrai ospite della nostra rubrica per invitare i telespettatori e parlarci e darci le date e poi prendiamo l'impegno di incontrarci alla Cineteca di Castello ricordiamo ai nostri telespettatori la data e poi ricordiamo anche dove si può trovare il DVD di Ale allora la prossima proiezione giovedì 12 aprile alle 9 e mezzo alla Cineteca Castello di Firenze il DVD è possibile trovarlo cioè viene dato al giorno della proiezione chi non può venire alla proiezione ma vuol prendere il DVD il DVD del film è disponibile anche online sulla libreria Il Giardino dei Libri penso uno va lì si iscrive noi ti facciamo gli auguri che il DVD abbia altrettanto successo quante ne hanno avuto le numerose proiezioni del film ti auguriamo buon lavoro per la commedia brillante che stai preparando invitiamo i giovani aspiranti attori o gli attori che hanno bisogno per perfezionare la loro tecnica teatrale di magari dai un indirizzo una pagina facebook un indirizzo internet o un sito dove chi vorrà contattarti potrà farlo certo sulla pagina facebook laboratorio di teatro comico l'indirizzo mail info il chiocciolina il cecco punto it ci siamo mai chiesti che cosa sia la mente umana così come abbiamo un corpo per interagire con ciò che vediamo e abbiamo un altro un altro per navigare in queste altre dimensioni in sette piani è costituito il cosmo e l'uomo ha sette porte per entrarvici c'è un'altra realtà che si nasconde dietro quello che vediamo e tutto quello che esiste nel mondo è collegato a questa realtà siamo fatti di energia e siamo immortali grazie a tutti